Salve a tutte e tutti, eccoci ad una lezione di greco, in particolar modo oggi andremo a tradurre un testo di De Mostene tratto dalla prima filippica. Lo scopo di questa lezione è quello di preparare le alunne e gli alunni all'esame di Stato. Ho scelto dunque un testo piuttosto complesso sia da un punto di vista morfologico e sintattico in modo tale da poterci esercitare al meglio e anche di cominciare ad acquisire degli strumenti lessicali in grazia dei quali poter affrontare l'esame al meglio. Sulla playlist che trovate su questo canale dedicata alle versioni di greco troverete anche altre versioni di Plutarco o di Platone che insieme con queste di De Mostene e con altre che seguiranno di Luciano e di Socrate possono essere utili per prepararsi al meglio all'esame di Stato. Rispetto alla preparazione il mio consiglio è quello di esercitarsi almeno settimanalmente. È veramente inutile mettersi a fare versioni di greco per prepararsi all'esame di Stato, a quella che una volta si chiamava maturità, soltanto qualche settimana prima dell'esame. Quello che invece può essere utile è iniziare a fare delle versioni di esercitazione al massimo a partire da marzo. Dell'ultimo anno. Anche se il mio consiglio è sfruttare già le vacanze di Natale e esercitarsi per almeno sei mesi. A questo ritmo la preparazione ha anche il tempo di farsi al meglio assorbendo anche da una parte tutte quelle particolarità sintattiche e morfologiche che già dovreste conoscere ma anche avrete tutto il tempo di studiare un po' di lessici. In particolar modo qui siamo al lessico dell'oratoria politica. Allora come nostro costume partiamo da una lettura del testo per poi andare ad individuare i verbi, a fare l'analisi e poi la costruzione e la traduzione. Ci accorgeremo come sanno già le persone che seguono il mio canale da più tempo che le tecniche di traduzione muovono sempre dalle stesse sane abitudini. Cioè lettura integrale, individuazione dei verbi, ricostruzione del periodo e all'interno del periodo è necessario andare ad operare quegli spostamenti per passare da un ordine soggetto oggetto verbo, quale è l'ordine delle lingue classiche, al nostro ordine abituale che è un ordine soggetto verbo oggetto mantenendo intatta però la struttura del periodo. Procediamo a lettura integrale perché io mi rendo conto che paradossalmente tante delle mie alunne e tanti dei miei alunni non sanno leggere o meglio fanno difficoltà a collocare gli accenti e quindi è bene andare a lettura integrale in maniera tale che anche sotto questo profilo insomma si è preparati al meglio perché poi si fa anche una brutta impressione no? Se anche conoscendo bene la grammatica quindi la morfologia e la sintassi si sbaglia nella lettura degli accenti chi ascolta può avere un'impressione falsata e pensare che la persona non conosce la lingua quindi partiamo dalla lettura integrale del testo qui siamo ai primi tre paragrafi della prima filippica e i men per i ca inutinos pragmatos pruditete o Andres Atenaio i legein e piscona neos o i plesto i ton e i ozoton gnomen api fenanto e i men eresce timoi ton iupontuton recenton esiuchian anegon e de me tote ancautost e per omen agi gnosco legein e pede dè iuperon pollaghi sei recasin utui proteron siun baenei canionisco pein e gumai ca i protos anastas e i cotosan siugnome stiuncanein e i gar ec tu paralleliutotos cronu ta deonta utui siune buleusan uden an iumasgnun e dei bulevestai proton men un uc atiumeteon o Andres Atenaio i tois parusi pragmasin udei paniu faulo secen dukei oga resti che eri ston auton ec tu paralleliutotos cronu tuto prosta mellon ta beltiston iuparchi ti un esti tuto oti uden o Andres Atenaio i ton deonton poggiunton iumonkakos ta pragmataekei e peitoi ei panta prosege pratonton uto secen udan el pisen autabeltio genestai epeta insiumeteon ca i parallon acusi ca i toise dosi autois anamimnescomenois e licen tote conton diunamin lacedaemonion ex su cronos u polius os calos ca i prosegontos uden an axion iumese praxe detes poleos alla allà iu pemenate iu per ton di caion ton prosegein us polemon ti nos un eneca tauta lego ina i deteo Andres Atenaio i kai te aseste oti uden ote fiulatomenois iumine stinfo beron ut anno ligurete to iuto noion aniumeis buloiste para edegmasi cromenoi te tote rome ton lacedaemonion es ecrateite ectu prosegein toi spragmasin ton nun ca iteniun iubreituto dien tarattometa ectu meden frontizein on ecren questo è il testo andiamo al primo periodo lo rileggiamo e andiamo ad individuare i verbi quindi eimen pericca inutino spragmatos prutitete ecco il primo verbo Andres Atenaio i legein secondo verbo che è un infinito ebiscon che è un participio aneoso ipleisto i ton iothoton che è invece un participio in questo caso ha valore di complemento partitivo ape fenanto eimen eres che altro verbo ti moi ton iupontuton resenton anche questo è un participio che ha valore di complemento partitivo es yuki anan egon eideme anche egon è verbo i verbi sono tutti quelli sottolineati è un indicativo e peromen è anche un indicativo così come gignosco legein è un infinito e pedede iuperon pollagis e i recasin uto i protesi un bainei ca i neuniscopein e gumai ca i protesi anastas e i cotosan signomest iuncanei e i gar ectu paralleliutotos cronutaddeontam uto i sione bulewesan udenan iumas nun e dei bulewestai come vedete i verbi sono tutti indicati andiamo a fare l'analisi del periodo eimen pericainutinos pragmatos prutitete o andresatenaio e slegein questa è una protesi di periodo ipotetico del quarto tipo cioè dell'irrealtà lo riconosco perché ho il verbo all'indicativo tempo storico episconan subordinata implicita al participio con valore modale riferito al soggetto sottinteso io eos oi pleistoi ton e iototon gnomen apefenanto questa è una subordinata temporale ton e iototon è qui il participio sostantivato come ho già detto prima la funzione che svolge è quella di complemento partitivo eimen e iresketimo iton iupotuton retenton questa è un'interrogativa indiretta retta dal participio piscon mentre il participio retenton è sostantivato esyuki ananegon questa è l'apotosi e l'apotosi del periodo ipotetico del quarto tipo o in realtà ma è anche la principale eideme è una protasi ellittica totean cautos quella è una crasi per caiautos epeiromen soggetto sottinteso io legein questa è apotosi di periodo ipotetico del quarto tipo quella tra parentesi aghignosco invece è una relativa impropria la frase è coordinata la principale come vedete il periodo è costruito in modo perfettamente geometrico epeidede proteron simbane canioniscopein questa è una subordinata causale all'interno della quale iuperon pollagis e iregasi nutoi è una relativa propria quell'infinito che vedete scopein è retto da simbanei e costituisce una soggettiva e gumai è coordinata la principale di nuovo soggetto sottinteso io e gumai è un verbum dicendi o existimandi caiprotos anastas è invece subordinata implicita al participio con valore concessivo eikotosan sugnome stiunkanin è la subordinata oggettiva voluta dai gumai eigar ektu paralleliutotos cronutadeonta utoi sunebuleusan questa è una protasi di periodo ipotetico di nuovo del quarto tipo dell'irrealtà perché il verbo come vedete è reggente sunebuleusan che è un auristo paralleliutotos invece è participio perfetto congiunto a crono taddeonta è participio sostantivato udenan yumasnion edei bulewestai questa è l'apodosi del periodo ipotetico è anche la reggente, la principale di questa frase edei è verbo servile di bulewestai che è un infinito andiamo a fare la costruzione ho andresatenaio e metto il complemento di vocazione per primo e i men prudite te legge i peritino spragmatos caenu an e con esiukian e piscona ne oso i plesto i ton e io toton a pefenan ton gnomen e i men moi eresche ti ton retenton io potuton e de me totan caia autos e peiromen legge in agi gnosco e pedè desi un bain e discopein caenioniglio peron proteron pollagi su toi e recasin e gumai caianastas protos e i cotos an tiunkanein su gnomes e i garutoi su ne buleusan taddeonta ectu paralleliusotos crono iumas nionan edei bulewestaiuden quindi o ateniesi se voi aveste proposto come vediamo il periodo ipotetico è dell'irrealtà quindi pongo una condizione irreale e una conseguenza quindi assurda quindi o ateniesi se voi aveste proposto di parlare riguardo a una questione nuova io avrei fatto silenzio aspettando finché i più tra coloro che sono soliti prendere la parola per primi avessero espresso la propria opinione e se mi fosse piaciuta qualcuna delle cose dette da costoro se no altrimenti ed è me allora anch'io avrei tentato di dire le cose che penso aghi gnosco anzi che mettere conosco ho messo penso ma poi che succede di affrontare anche adesso quelle cose che precedentemente costoro hanno detto molte volte io ritengo anche se mi alzo per primo di poter ricevere verisimilmente comprensione se infatti costoro avessero consigliato le cose necessarie già nel tempo passato non ci sarebbe per nulla bisogno che voi adesso vi trovaste a dover decidere andiamo a vedere il secondo periodo che è molto più breve qui l'unica cosa interessante di questo breve periodo è quella thiumeteon che è un aggettivo verbale della seconda classe e dunque mi configura quella che potremmo definire usando una terminologia latina una perifrastica passiva quindi andiamo a fare l'analisi, poi la costruzione e la traduzione questo è un periodo semplicissimo quindi proton menun, ucca thiumeteon o andres adenaiois, toys, parusi, pragmasin è la principale ellittica del verbo essere con la presenza come dicevo dell'aggettivo verbale della seconda classe mi configura una perifrastica passiva e il participio che ho qui parusi è attributivo di pragmasin udei, panio, faulos, ekein, dokei questa è una subordinata concessiva in cui dokeo regge quell'infinito ekein a fare una soggettiva quindi la costruzione sarebbe proton menun, andres adenaioi, ucca thiumeteon, toys, parusi, pragmasin udei, dokei, ekein, panio, faulos quindi innanzitutto proton menun dunque o ateniesi non traduciamo o uomini ateniesi o signori di Atene mettiamo solo ateniesi non bisogna scoraggiarsi vedete perifrastica passiva si deve o bisogna non bisogna scoraggiarsi di fronte alle circostanze presenti toys, parusi, pragmasi neppure se sembra che siano assai precarie terzo periodo, anche questo molto breve una piccola nota di coraggio mette questa è una subordinata relativa prolettica per chi non si ricordasse che cosa sia una relativa prolettica quindi che cos'è la prolettica del relativo sul canale trovate una playlist dedicata al corso di greco in cui trovate una lezione su tutte le relative e anche dunque su questi usi particolari del pronome relativo che vuol dire prolettica pro e lego quindi dire prima quindi la subordinata relativa sta prima della reggente e infatti pure qua è così tuto, pro, stam, mellon, tab, el, tisto, no, iu, parchei questa è la reggente stam, mellon, tab, participio, sostantivato quel tuto è il pronome a cui ho della relativa riferito ecco perché ho è in posizione prolettica e quindi andiamo a fare la costruzione io la lascerei così la lascerei prolettica anche in italiano gar, o esti, keiri, stone, auton, ec tu, paralleli, totos, crono tuto, iu, parchei, belti, stone, prostam, mellon, tab la lascerei così perché appunto fa il gioco fra paralleli, totos, che è passato e mellon, tab, che è futuro quindi infatti ciò che è pessimo tra esse cioè le circostanze a partire dal tempo passato questo è ottimo in vista del futuro quarto periodo che è un po' più composito tiunestituto ricordatevi che il punto e virgola è punto interrogativo in greco oti, udeno, andres, atenaio, eton, deonton, poiunton, iu, mon, cacos, tapragmata, egei e peitoi, ei, panta, proseche, pratonton, utosechein, utan, el, pisen, auta, beltio, genestai diciamo qua li incoraggia in una maniera un po' particolare quindi tiunesti, tuto, questa è un'interrogativa diretta e la principale segue subito la risposta otica, costa, pragmata, egei, qua c'è un errore di battitura questo ta, è scritto tutto attaccato questa è una subordinata sostantiva o dichiarativa introdotta da oti uden, o andres, atenaio, eton, deonton, poiunton, iu, mon questo è un genitivo assoluto è una subordinata dunque di secondo grado il valore è causale dobbiamo stare attenti iu, mon è il soggetto poiunton è il predicato verbale del genitivo assoluto ton, deonton, invece è il participio sostantivato è il complemento partitivo di uden epei, toi, udan, el, pisen questa è una subordinata causale che però è apodosi di periodo ipotetico dipendente del quarto tipo dell'irrealtà autabel, tiogenestai è una subordinata oggettiva ei, panta, utos, eiken questa è protasi di periodo ipotetico del quarto tipo pratonton è il genitivo assoluto con valore concessivo a proseghe è subordinata relativa quindi come vedete anche questo periodo è organizzato in maniera geometrica perfetta andiamo a rivedere la costruzione tiune, istituto, otita, pragmata, ekei, cacos, iu, mon o andres, atenaio, i pojunton, udenton, deonton e pai toi, ei sempre pratonton è coordinata al genitivo assoluto ehi, pratonton, panta, proseghe, eiken, utos la era di problemi udane nel pis, autagenest, ai beltio cos'è dunque questo? cioè perché dico questo? il fatto che le cose vanno male perché voi o ateniesi non fate nessuna delle azioni necessarie poiché certamente se pur facendo voi tutte le cose che convengono le cose fossero andate così non ci sarebbe stata neppure più la speranza che esse possano andare meglio cioè il senso è questo c'è ancora un poco di speranza perché voi ateniesi non fate assolutamente nulla di quello che dovreste fare questo è il senso altro periodo un poco composito e potrebbe essere crescere in cui si è pienso e pari all'occasio che i dosi o i dosi o i dosi anamimnescomenois e licen tote e conton diunamine lachetamonion e su crono su polius os calos e prosegono su denanaxion Quindi epeta entiumeteon, questo adesso lo dovremmo riconoscere, è sempre un aggettivo verbale della seconda classe, che parallelon accusi, che tos, tois, eidosi, autois. Questa dunque è la principale, il verbo reggente è l'aggettivo della seconda classe, col verbo essere sottinteso e fa sempre la perifrastica passiva greca. Facciamo caso, abbiamo due participi in dativo, accusi e eidosi, sono congiunti a quello che è il complemento d'agente, sottinteso noi, ma stando all'interno di una perifrastica passiva, il complemento d'agente in dativo diventa soggetto. Invece anamimnescomenois è participio, congiunto al dativo d'agente, con valore causale, e qua però noi lo tradurremo congiunto al soggetto, perché nella perifrastica passiva al dativo d'agente non lo traduciamo soggetto. Eliken, tote, conton, dunamin, laichedamonion, è un genitivo assoluto con valore temporale, exucrono, suppolius, questa è una relativa propria ellittica del verbo essere. Os, calos, cai, proseccontos, udenan, axion, questa è una litote come figura retorica, udenan, axion, iumeis, praxa, detes, poleos, è una subordinata dichiarativa esplicita, alla iupemenate, iuperton, dicaion, ton, proseche, inus, polemon, questa è una coordinata alla dichiarativa costruzione, epita, entiumeteon, cai, acusi, parallon, cai, tos, edosi, autois, anamim, nescomenois, tote, laichedamonion, e conton, eliken, dunamin, exucrono, suppolius, os, calos, cai, proseccontos, iumeis, e praxa, detes, udenan, axion, tes, poleos, alla, iupemenate, ton, polemon, proseche, inus, iuperton, dicaion. Infine noi, quindi noi mettiamo il soggetto e facciamo la perifrastica attiva, la passiva la rendiamo attiva, noi dobbiamo considerare sia ascoltandolo da altri, sia sapendolo noi stessi, poiché lo ricordiamo, ricordandolo personalmente dunque, quando gli spartani avevano una così grande potenza non molto tempo fa, quanto gloriosamente opportunamente voi non avete fatto nulla di indegno della città, ma avete affrontato la guerra contro di loro in nome della giustizia. Quindi qui, diciamo, De Mostene fa un appello al valore che gli Ateniesi avevano dimostrato nella guerra del Peloponneso. Tinosun è inegata autalego, infatti se lo chiede anche lui, cioè perché ritorno indietro a questo fatto, una, idete o andres a denaio e caite aseste, o ti uden, ut e fiulattomeno isti iumin esti foberon, ut an oligorete, tu iuto noi onaniume esbuloist, paradigmasi cromenoi te toterome ton l'agetamonion es e gratuito ec tu prosegue in toi spragmasi ton nun, cai te nun iubretuto dien tarattometa ec tu meden frontizze in on e gren. Tinosun è inegata autalego, anche questa è un'interrogativa diretta principale, ina idete o andres a denaio e caite aseste, è una subordinata filale esplicita e sua coordinata, cioè caite aseste, o ti uden, ut e fiulattomeno isti iumin esti foberon, questa è una subordinata di secondo grado dichiarativa, il participio fiulattomeno isti è congiunto al complemento di termine, ut e to iuto noi onaniume esbuloiste, questa è una coordinata alla dichiarativa, an oligorete, questa è una subordinata ipotetica di secondo tipo o eventualità, paradigmasi cromenoi te toterome ton l'agetamonion, cai te nun iubretuto, questa è una subordinata implicita strumentale in cui il predicato verbale è il participio cromenoi, noi ricordiamo che craumai regge il dativo strumentale, quindi qua te rome e te iubrei sono i dativi strumentali, paradigmasi è predicativo di questo strumentale. est e gradeite, subordinata relativa propria, ec tu prosege in to i spragmasi ton nun, subordinata causale implicita, a ec più infinito, dien tarattometa, una subordinata relativa propria, ec tu meden frontize in on e gren, è una subordinata causale implicita al cui interno c'è quell'on e gren, che è una subordinata relativa propria. Anche questo periodo è costruito in maniera molto architettonica, molto ben bilanciata. Andiamo a fare la costruzione. e negatinos un legotauta, in aide te o andres adenaio e caite aseste, oti, udene si fuberon jumin, ute fiulattomeno is anno ligurete, ute to iuto noi on an jumeis buloiste, cromenoi paradigmasi, te toterometon l'agedemonion, es e crateite e tu proseguenton nun to spragmasin, caite nun iubretutu dien tarattometa, ec tu meden frontize in on e gren, quindi anche qui fa un parallelismo fra l'attività e l'impegno passato durante la guerra del Peloponneso e invece la stasi del presente. A quale scopo dunque dico queste cose? Affinché vediate o ateniesi e guardiate che né se state in guardia c'è nulla di temibile per voi né se trascurate la situazione nulla è tale quale voi vorreste, utilizzando come esempi la forza di allora degli spartani sulla quale avete avuto la meglio in seguito al fatto di prestare attenzione alla situazione e alla presente tracotanza di costui per la quale, a causa della quale, siamo sconvolti poiché non ci preoccupiamo di nulla di ciò di cui sarebbe necessario. Bene, io spero che questa lezione su un testo che come avete visto è piuttosto impegnativo sia da un punto di vista morfologico sia soprattutto sintattico sia utile per chi si sta preparando per l'esame di Stato o chi sta affrontando l'ultimo anno del liceo. Dunque io ringrazio tutti e tutti per l'attenzione soprattutto chi è giunto a questa parte del video esorto chi segue il canale ad effettuare l'iscrizione anche per farmi capire se questi video sono utili esorto ad usare lo strumento dei commenti per chiedere ulteriori delucidazioni se ce n'è bisogno e ci vediamo al prossimo video che sarà di nuovo su De Mostene. Grazie. Grazie.